A 20 giorni dalla prima votazione una sola certezza. Al momento manca un candidato in grado di essere eletto presidente della Repubblica nei primi tre scrutini, con i due terzi dei voti. Dietro le quinte si lavora per cercare di individuare un nome che sia il più possibile condiviso. Si moltiplicano i contatti riservati tra i leader di partito, ma ogni tentativo naufraga tra veti, controveti, divisioni interne. E così 5 Stelle in assemblea al Senato correggono Conte, che aveva lanciato l'ipotesi di una donna al Quirinale, e invocano il bis di Mattarella, a larghissima maggioranza. Ma l'attuale capo dello Stato ha più volte confermato il mio mandato finisce qui. Eppure una parte dei pentastellati è convinta che ci sia ancora uno spiraglio. In queste ore la riunione è congiunta di deputati e senatori con al centro l'emergenza Covid, ma la discussione non potrà che concentrarsi anche sul Quirinale. Di certo il messaggio lanciato a Conte è chiaro, vogliamo essere coinvolti nelle decisioni. Lontani da un'intesa Lega e PD, Salvini rilancia un tavolo comune per condividere, se non un nome, almeno un metodo. Il Partito Democratico replica che il dibattito è congelato, finché il centrodestra punta sul leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi. Salvini contro replica, Letta pone veti e perde tempo. Maria Elena Boschi, capogruppo di Italia Viva la Camera, attacca i Dem, vogliono Draghi al Colle perché sperano il voto anticipato. Ad oggi i partiti rimangono sulle proprie posizioni. Il centrodestra ribadisce che questa volta non può essere il PD a dare le carte. I Democratici cercano un nome che permetta di rientrare in partita.